rieccomi salve oggi vi vorrei far vedere questa semplice e piccola app di pixel art si chiama artistic pixel l'ho realizzata su code.org quindi con app lab quindi scritta in in javascript è disponibile perché condivisa basta avere il link o cercarla sul motore di ricerca mi metterò il link nella descrizione di questo video e quindi è libera è modificabile remixabile da chiunque è utilizzabile chiaramente allora l'applicazione presenta una griglia nella quale io posso disegnare semplicemente cliccando sui vari sulle varie caselline ogni volta che clicco alterna alcuni colori quindi partendo dalla casellina bianca abbiamo il nero il rosso il blu il verde il giallo e di nuovo il bianco se parto da una casellina non bianca quindi colorata la prima cosa che fa è mettermela bianca in alternativa continuando a cliccare posso scegliere i colori se scelgo un colore per esempio faccio una casellina rossa la prossima casellina partirà dal rosso quindi diciamo una sequenza di colori studiata per facilitare e minimizzare il numero di clic necessari in modo da supponendo che chi disegna utilizzi più volte lo stesso colore in pixel consecutivi di avvantaggiare questa operazione nella all'inizio l'applicazione presenta questa faccina ok se entriamo un attimino nel programma giusto un minimo la variabile drawing è una stringa di testo che contiene il codice secondo una codifica che ho stabilito del disegno e quindi copiando questa stringa di testo e condividendola con qualcuno è possibile passare il disegno in sostanza e questo adesso lo vedremo meglio la cosa interessante che una volta fatto il disegno posso vedere il codice corrispondente a questo disegno è un codice in stile coding cioè immaginiamo di trovarci in questa posizione ci dà le istruzioni per realizzare il disegno come se fossimo un robot che si muove su questa griglia che può lasciare tracce di colore se clicco su show code infatti ottengo una sequenza di frecce e altri simboli che sono appunto il codice che mi serve per realizzare l'applicazione la il disegno per esempio vado giù in una casellina poi c'è un blocco repeat 2 quindi ciò che sta tra parentesi graffe verrà ripetuto due volte il programma analizza il disegno e automaticamente non solo conosce determina i codici i movimenti che devo fare per realizzare il disegno ma se vede delle parti che si ripetono le sintetizza con un blocco repeat quindi per due volte ando a destra poi c'è una ripetizione di sei volte di questi due blocchi disegno giallo e vado a destra e così via questa è la prima pagina questa è la seconda pagina il codice è fatto in questo caso da due pagine più qualche riga se torniamo ai pixel al disegno cliccando su run vediamo il codice in esecuzione quindi vediamo cosa succederebbe se qualcuno o robot o un umano realmente applicasse quel codice su un foglio di carta o su un pavimento quadrettato clicco su run ecco vediamo il puntino nero che si muove qua sotto vediamo quale blocco di quel codice che avete visto viene eseguito e vediamo che in sostanza ci sono le frecce che indicano al pallino nero come deve muoversi e il blocco di colore che indica che dobbiamo lasciare proprio in quel punto la traccia di colore chiaramente ci sono infiniti modi per realizzare questo disegno in diversi percorsi che ci porteranno allo stesso risultato il programma ne ha scelto uno secondo l'algoritmo che ho impostato ovviamente chi è curioso può benissimo entrare nel programma e approfondire come è stato fatto tutto questo oppure ci possiamo anche limitare semplicemente utilizzarlo l'altra caratteristica interessante di questo programma quindi fino adesso come ve lo presentate un programma che vi permette di disegnare e di ottenere un codice per il prodotto di disegno che non è un codice e in bit code esadecimale o come si fa in altri casi di pixel art ma è un codice che ci indica i movimenti come ho già detto torniamo indietro allora un'altra caratteristica interessante che io posso condividere il disegno come faccio a condividerlo se vediamo c'è un bottone e save o share quindi salvo condividi che mi dà diverse opzioni di condivisione possiamo condividere il disegno con la community perché dentro app lab c'è uno spazio condiviso un cloud condiviso in cui noi possiamo le nostre applicazioni possono salvare dati che poi possono essere viste dalla stessa applicazione eseguita da un'altra persona per esempio in un gioco potrei salvare il mio punteggio e quindi l'applicazione potrebbe visualizzare i punteggi raccogliendo tutti quelli dei giocatori ok quindi posso scrivere il titolo del disegno prova video visto che il disegno che sto usando nel video scelgo un username massimo e una password prova clicco su save allora vedremo fra un attimo che cosa è successo ecco qui se andiamo su load nell'elenco dei disegni salvati abbiamo prova video questo non lo vedo solo io lo vede chiunque utilizzi questa applicazione ok e posso caricarla per esempio questo smile66 non l'ho fatto io l'ha fatto qualcun altro clicco load posso vedere che cosa è vabbè ha solo salvato il disegno originale andiamo invece un'altra possibilità di condivisione io posso in alternativa come ho scritto l'interfaccia l'ho fatta in inglese ma chiaramente penso sia abbastanza comprensibile condividere questo testo che non è altro che la stringa che dentro il programma rappresenta il disegno qui è scritta nel programma perché il disegno di partenza ovviamente se io modifico il disegno questa stringa viene modificata se io do a un'altra persona questa stringa e la mando per messaggio come volete per email e cliccando su load l'altra persona anziché scegliere il disegno può scrivere qua dentro la stringa la può incollare e importare quel disegno facciamo un disegno leggermente diverso disegniamo un piccolo albero di natale facciamo il tronco non ho messo molti colori quindi il tronco lo facciamo rosso ok vedete che adesso che sto utilizzando il verde lui mi aiuta perché mi propone il verde come colore di default ok sto disegnando una sottospecie di albero di natale molto semplice ok e lo voglio salvare lo salvo come albero qua mi propone Marta perché l'ultimo disegno che ho caricato era l'utente e si era chiamata Marta però non posso salvare il nome di Marta perché non so la password ovviamente massimo mettiamo prova questa è la stringa che corrisponde al disegno se io condividessi questa stringa andrebbe bene lo stesso salviamo albero il nome utente serve semplicemente ad attribuire una paternità un nome alla persona che ha condivido il disegno ma sono dei dati molto poco sensibili quindi voglio dire non c'è un grandissimo livello di sicurezza non è necessario cancelliamo l'albero carichiamo per esempio posso caricare di nuovo lo smile66 di Marta eccolo qui carichiamo nell'elenco mi trovo anche albero e posso caricare il mio albero di natale spero che questa app vi piaccia vi possa risultare interessante e utile e se qualcuno vuole approfondire come è stato realizzato il programma io sono disponibile ovviamente a dare tutti i chiarimenti mi fa anzi molto piacere e per adesso vi saluto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti